Informazioni scottanti sono appena arrivate a Milano. Ma prima di raccontarvi cosa è successo, dimostrate di essere rossoneri e cliccate sui mi piace. Ora passiamo alla notizia. Il Milan sta valutando il trasferimento del giovane Arda Guller del Real Madrid e la squadra spagnola sarebbe favorevole al passaggio del giocatore in rosso-nero. Come riportato da Sport in Spagna, il Real Madrid è consapevole che lo sviluppo del suo giocatore è in fase di stallo. Il giocatore è arrivato all'inizio della stagione dopo una saga di trasferimenti che ha visto il Milan mostrare, grande interesse per l'attaccante turco. Subito dopo si è infortunato gravemente, impiegando circa sei mesi per recuperare. Ora che è in forma, non c'è spazio per lui nella formazione titolare, perché Carlo Ancelotti ha già definito il suo undici di partenza preferito. Molti club si sono resi conto dell'opportunità di cedere Guller in prestito. Tottenham Hotspur e Bayer Leverkusen hanno manifestato interesse. Il Real Madrid è convinto che Guller abbia bisogno di andare in una squadra dove possa davvero ottenere minuti significativi, il che ha portato i Los Blancos a favorire l'idea di un trasferimento a Milano. Con Stefano Pioli che utilizza spesso la formazione 4-2-3-1, Guller potrebbe giocare dietro l'attaccante. L'unico problema è che potrebbe essere un prestito piuttosto costoso, considerando che si tratta di un giocatore del Real Madrid. Questo è tutto per il video di oggi, cosa ne pensate di tutto ciò fatemelo sapere nei commenti. Cliccate sul pulsante mi piace e iscrivetevi al canale per ricevere tutte le ultime notizie fino alla prossima volta.